Due cose voglio dire. Allora, non si trova in un parcheggio, manco se fai un vomito. Primo, che è la laguna. Poi è un quarto d'ora che mi scappa da un accesso, un gessaro o un bagno pubblico. Una vergogna. Tutto a pagamento. Devo entrare dentro un bar e lasciare la mia cagata lì con la puzza. Non era meglio un bagno pubblico. Mi vergogno, no? No, a parte scherzi, mezzo a piccio sotto, compagno. Andrò con un bagno pubblico. Non è bene. Seguiamo. Seguitiamo. No, seguiamo. Ma come parlo? Se beccamo, alla prossima, dai. Ciao. Piccioncini, no. Sorcini, no. Porcellini, no. Come posso chiamare voi che mi seguite? Trippini, trippini. Trippini, no. Trippini, no. Eeeh, panzerottini, panzerottini. Alla prossima, panzerottini.